Bassano sono in corso gli interventi antilarvali contro la zanzara in 11 comuni del comprensorio bassanese dell'altopiano di Asiago. Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cismon, Mussolente, Pove del Grappa, Roana, Romano Dezzelino, San Nazario, Tezze sul Brenta e Bastagna. È un servizio che trasvolge su richiesta dei comuni e solo su aree pubbliche. Gli addetti operano da maggio a ottobre con una cadenza di un trattamento ogni 20 giorni circa, trattando tombini, caditoi e pozzetti in totale circa 25.500. I cittadini sono invitati a rivolgersi al loro comune per segnalare problematiche legate al suolo pubblico. Eliminare tutti i possibili ristagni d'acqua presenti nelle adiacenze esterne delle abitazioni. Questi sono i consigli. Vuotare i recipienti di raccolta delle acque almeno ogni 5 giorni. Vuotare i sottovasi almeno ogni 5 giorni. Eliminare tutti i contenitori in plastica, metallo, vetro, nylon, copertoni usati che possono diventare bacino di contenimento d'acqua. Praticare nei pozzetti dell'acqua piovana, dei piazzali e dei rubinetti idrici esterni un foro di drenaggio sul fondo o coprirli con una rete a maglia fitta. Nelle vasche ornamentali e nelle fontane introdurre pesci che si cibano delle larve, ovvero i comuni pesci rossi.